Cosa ho combinato qua, forza, di quell'altro... Mannaggia, oh! Forza, Roma, Kig! Vedi se... Ok! Sono ancora in live, ok! Ok! Sì, sono ancora in live! Adesso sono ancora... Eh! L'ho rispetto e poi l'ho riaccesa! Viri a direita! Mannaggia, oh qua! Preparare-se per virare a esquerda! Vire a esquerda! Mantenha-se a esquerda! Ho ancora fatto una castronata... Aver toccato... Ho terminato... Perché io prima la live l'ho fatta partire con F9! Dopo sono andato a toccare... A toccare lì, ho terminato la live e così... Ho dovuto riprendermi un'altra! Mantenha-se a esquerda! A toccare lì, ho dovuto riprendere con F9! Grazie a tutti. 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 Il telepass questo? 5 euro. Scale di cemento. Scale di cemento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. ho rischiato di fare una collisione continui a direita e depois pegue a saída a direita pegue a saída a direita a direita a direita a direita a direita a direita andiamo a girare qua a destra vire a direita e depois vire a direita pegue a saída a direita una rotonda la devi dire a direita 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 si al prossimo a direita 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 11 euro mantenha-se a direita mantenha-se a direita 11 euro oh thank you very much per il follow Bilara Drive thank you very much per il follow mantenha-se a esquerda ciao benvenuto grazie per il follow grazie mille allora come vedi siamo su Eurotrack ti va di fare una scommessa prima cosa dipende di che cosa si tratta grazie mille allora aspetta eh che ti leggo eh allora io ti porto dei follower e tu e tu mi compri un gioco continui a direita allora in genere io non faccio queste cose qua i follower io non mi spiace ma io non faccio queste cose qua non faccio né ricambio iscritto né ricambio l'iscrizione al canale deve essere una cosa piacevole nel senso se tu ti iscrivi al mio canale deve piacerti io non io non obbligo nessuno allora sto girando da tante persone per fare sta scommessa ma nessuno accetta perché questo sei tu che la pensi che il mio ragionamento non è giusto so che so so che mi serve sto gioco tutto qua ma domanda stupida io adesso ti faccio io una domanda ma ma così ma perché ti mancano 7 euro per comprare il gioco domanda poi e a tuo piacimento rispondere a rispondere non penso che ti mancano 7 euro per comprare il gioco allora no i miei non vogliono darmi 7 euro aspetta eh dai mi sembra mi sembra mi sembra una cosa assurda comunque sicuramente sicuramente boh non non ho parole non non lo so a me a me spiace però io non non faccio io non a presenza che a me non piace fare scommesse in genere eh per quale motivo io devo scommettere eh punto ma ma niente ma non devi io ringrazio te sono io che ringrazio te che ti sei iscritto al canale sempre se eh l'hai fatto col cuore primo eh sono io che ringrazio te eh e grazie ancora per il follow e grazie per aver assistito alla live spero di ritrovarti ancora una prossima volta e quando avrò quando farò la live aspetta eh a parte aspetta eh aspetta eh piano ti leggo eh a parte a parte sta cosa mi piace aiutare mi piace aiutare le persone tutto qua eh te lo sei meritato e basta ah ma ok grazie grazie mille ma grazie ma io guarda ti mando un abbraccio virtuale è molto carino e sono io che ringrazio te ma grazie ciao alla prossima buon viaggio grazie mille grazie per essere passato e grazie per il follow mantenha-se a esquerda ok che ho risposto e poi pegue a saída a direita pegue a saída a direita a brauch a direita a direita a Grazie a tutti. Va bene dai ragazzi per questa live è tutto, io ringrazio tutti quelli che sono entrati, alla prossima, ciao a tutti.